Settembre solitamente è definito dalle associazioni animaliste il mese delle adozioni, questo purtroppo fa eccezione. Al contrario infatti si registrano rinunce di proprietà e abbandoni, un dato allarmante in forte aumento, dovuto probabilmente anche alle spese eccessive, agli aumenti delle bollette e alle difficoltà nell'arrivare a fine mese con cui tutte le famiglie stanno facendo i conti. Il settembre è iniziato con rinunce di proprietà e abbandoni di animali padronali, le adozioni totalmente ferme, ma lo dico a livello nazionale, quindi noi siamo particolarmente preoccupati di che cosa? Che le persone sono tornate a settembre con un allarme di carovita, bollette che aumentano e quindi sono entrati nella psicosi, oddio, come faremo a sopravvivere? Sacrifichiamo l'animale. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ricorda alla cittadinanza che l'associazione è presente e non solo nel momento stesso delle adozioni. Ci sono tante agevolazioni che possono andare incontro alle esigenze delle famiglie dando un aiuto concreto. Abbiamo creato, grazie all'introito del 5x1000, un ambulatorio solidale sul territorio per aiutare e sostenere chi si occupa degli animali randaggi, chi li ha presi in adozione da canili, da gattili. Sta a Fiumicino e devo dire che sta servendo tutta la zona di Roma e dei comuni di Roma, arrivano anche da altre province del Lazio come EMPA. Naturalmente quando diamo un animale in adozione lo diamo correlato di tutto un libretto sanitario con tutte le prestazioni di prima necessità necessarie, quindi le vaccinazioni, la cippatura, la sterilizzazione. Nonostante questo riceviamo invece minimo 5-8 telefonate al giorno di rinunce di proprietà. EMPA vorrebbe potersi occupare dei randaggi e non delle rinunce di proprietà. Per questo rivolge un appello ai diretti interessati, non abbandonate i vostri cani. Noi vorremmo occuparci degli animali randaggi, cioè di quelli di nessuno, davanti a una perdita del lavoro, davanti ad un'allergia, perché questi sono i motivi, davanti a un trasferimento, davanti alla nascita di un bambino. Non puoi rinunciare al tuo animale dopo diversi anni che vive in un divano, con la famiglia, socializzato, ormai abituato alla famiglia. Non lo puoi dare.